Restano ancora tutte da chiarire le cause che hanno portato al decesso di Joyeware, la 31enne nigeriana morta durante il travaglio all'ospedale della Gruccia di Montevarchi. Dall'autopsia sul corpo della giovane, eseguita ieri dall'equip di medicina legale dell'Università di Pisa, coordinata dal professor Marco Di Paolo, non emergerebbe al momento alcuna evidenza. Secondo alcune prime indiscrezioni, tra le ipotesi delle cause del decesso potrebbe esserci un'embolia polmonare innescatasi in seguito al travaso di liquido amniotico nel sangue. Si tratta però al momento solamente di un primo riscontro in attesa di ulteriori accertamenti. La relazione definitiva sarà compilata entro il termine di tre mesi. Sulla vicenda era stato aperto un fascicolo da parte del PM Giulia Maggiore, che aveva richiesto il sequestro della cartella clinica. Disposto l'autopsia e inviato due avvisi di garanzia, uno ad un medico ed un altro ad un'ossetrica della maternità valdarnese, ipotizzando il reato di omicidio colposo. Un atto dovuto che ha così permesso agli indagati di nominare un consulente con l'incarico di presenziare all'esame otoptico. La tragedia si era consumata alle tre di notte dello scorso 14 giugno. La donna, la 41esima settimana di gravidanza, già madre di due figlie, si era presentata all'ospedale della Gruccia. I medici si erano preparati per un parto naturale, come richiesto dalla stessa giovane. Durante il travaglio, però, la donna era andata in arresto cardiaco per salvare la bimba. I sanitari avevano eseguito un cesario d'urgenza a nulla. Invece erano valse i disperati tentativi di salvare la 31enne deceduta poco dopo. Una vicenda drammatica che ha sconvolto l'intera vallata in questi giorni. E' infatti preso avvio anche una raccolta fondi a favore del marito di Gioi, che lavora come bracciante agricolo. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione San Vincenzo dei Paoli e dalla Caritas Interparrocchiale Cittadina.